Allora, possiamo cominciare, manca ancora una persona che però sta arrivando, ma intanto ci parliamo della libertà di cominciare, di cominciare a parlare di questo mito di Frankenstein perché quest'anno sono 200 anni esatti dalla stesura, dalla pubblicazione, anzi della prima edizione di un romanzo che ha fatto epoca, che fece scalpore, anche perché è scritto da una giovanissima donna, aveva 19 anni, 20 anni, una cosa straordinaria, un personaggio anche straordinario che merita approfondire e conoscere, soprattutto in una città come Padova, perché non so quanti di voi sanno che qui a Padova si è laureata, ha preso un dottorato, la prima donna al mondo ad avere conseguito questo titolo accademico, si chiamava Elena Lucrezia Corner Piscopia, è nata a Venezia nel 1646, una donna che era nata da una famiglia molto agiata, aristocratica, molto sostenuta dal padre, donna di grande intelligenza che poi aveva preso i voti ma aveva continuato a studiare filosofia, teologia, lingue straniere e il padre avrebbe voluto che si laureasse in teologia, il che sembrava una cosa terribile per quei tempi. Il cardinale Barbarigo di Venezia disse esplicitamente non esiste, non è concepibile che una donna possa laurearsi o prendere un dottorato in teologia. A 32 anni alla fine riuscirono a fargli avere un dottorato, non in teologia però in filosofia, perché evidentemente la teologia era considerata ancora patrimonio esclusivo dei maschietti dell'epoca. Purtroppo Elena Lucrezia Corner Piscopia e poi è morta qualche anno dopo, mi pare a 38 anni, ed è morta qui a Padova dove appunto prese questo suo diploma accademico prima donna al mondo aver conseguito questo titolo. Se voi andate a Venezia in una calle a fianco del ponte, come si chiama il ponte famoso di Venezia, il ponte Rialto, ecco, Blackout, un ponte di Rialto, in una calle laterale c'è una targa che ricorda questa persona, questa donna straordinaria che nel 1600 riuscì a ottenere questo titolo accademico. E allora, a suo modo, anche Mary Shelley era una donna straordinaria, vista anche l'epoca, parliamo degli anni a cavallo tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Lei è nata nel 1797, anche lei da una famiglia molto particolare e la madre, Mary Hulston Graft, morì appena dieci giorni dopo la sua nascita, dopo il parto, probabilmente per questioni di complicazioni, c'è tutta un'emorragia, poi magari aveva preso anche la malaria, eccetera, però era una donna straordinaria a suo modo anche lei, perché femminista antelitteram, persona di grande intelligenza e altrettanto dicasi del padre, filosofo, scrittore, molto libertario e anche libertino, con figli illegittimi, eccetera, che però spinse moltissimo la figlia Mary a studiare, a leggere, a viaggiare. E Mary fu una straordinaria lettrice per quei tempi, lettrice non solo di testi letterari ma anche di testi scientifici, anche perché la casa dei Godwin ospitava anche degli scrittori scienziati, quindi intellettuali dell'epoca di cui lei seppe cogliere anche le motivazioni, seppe cogliere le istanze del momento, seppe capire qual era l'atmosfera scientifica in cui si muoveva il mondo all'inizio dell'Ottocento. In più, ripeto, era una lettrice straordinaria. Tutto questo a 19-20 anni. A 17 anni si era permessa anche di andare via da casa per seguire il suo grande amore, il poeta Percy Bessy Shelley, 17 anni, con cui fece, nell'arco di pochi anni, quattro figli. Credo che uno solo abbia raggiunto la maggiore età. Questo per dirvi un po' l'atmosfera in cui ci muoviamo. E Mary Shelley, ci sarebbero moltissime altre cose da dire, però tutto nacque, tutto il discorso legato a Frankenstein, in cui Mary Shelley inserì molti aspetti scientifici dell'epoca, la medicina, la biologia, la chimica, l'elettrochimica, anche grazie agli scienziati, che aveva conosciuto gli scienziati e con cui era entrato in contatto. Magari adesso ne vedremo alcuni molto rapidamente. e tutto questo contribuì a fare di questo libro un libro anche con grandi aspetti scientifici ed etici, che da molti saggisti e scrittori viene costato il primo romanzo di fantascienza. In particolare lo scrittore e saggista inglese Brian Aldis, scomparso purtroppo l'anno scorso a più di 90 anni e nel suo saggio, un miliardo di anni, dedica esplicitamente a Mary Shelley, a Frankenstein, nel primo capitolo, dicendo che è il primo romanzo in cui la scienza entra, come dire, la scienza e la società dell'epoca entri in una narrazione e diventa quindi il primo romanzo che si possa classificare di fantascienza in senso moderno. Per sviscerare un pochino quello che sta dietro a Mary Shelley e a questo romanzo abbiamo con noi alcuni dei massimi esperti sull'argomento naturalmente. In particolare Marco Ciardi e per Luigi Gaspa, che sono autori di questo libro uscito qualche mese fa per i tipi di carocci, intitolato Frankenstein, il mito tra scienza e immaginario, che rappresenta una specie di summa di tutto quello che al momento è possibile avere a disposizione sulla storia di Mary Shelley, su Frankenstein, nel cinema, nei fumetti, nella letteratura e quant'altro. E poi abbiamo con noi anche uno dei maestri, dei massimi esperti italiani di fumetti e anche di cinema e anche di fantascienza, il papà di Martin Mister e cioè Alfredo Castelli. Aspettiamo Enrica Bonaccorti che già altre volte ha interagito con Gaspa e con Ciardi per alcune letture del Frankenstein di Mary Shelley. Ha avuto qualche problema, ma l'aspettiamo. Volevamo partire con la sua lettura, ma lo facciamo dopo. Frankenstein non perdona. Frankenstein non perdona. La maledizione dei Frankenstein riesce a colpire anche qui. Tra l'altro, se ci pensate, anche la parola Frankenstein è tornata anche in questi anni di moda. Si dice il cibo Frankenstein per indicare gli OGM, è incredibile, il frankenfood. L'altro giorno in televisione ho sentito che l'attuale governo, qualcuno definisce un governo Frankenstein. Perché? Perché è formato da due movimenti politici, diciamo così, che apparentemente hanno poco in comune tra loro, ma che sono messi insieme, come fece Victor Frankenstein. E vive. E vive. It's alive, come diceva Victor Frankenstein nel primo film della serie. It's alive. Allora, quello che vedete è il protagonista, il mostro, la creatura, il demone del più famoso della storia di Frankenstein, interpretato da Boris Karloff. Siamo nel 1931, esattamente 200 anni dopo l'edizione definitiva del Frankenstein di Mary Shelley, perché come poi vi racconterà in particolare Marco Ciardi, esistono due o tre versioni del romanzo, anche se la prima stesura è del 1818. E questa è Mary Shelley. Mary Shelley, morta abbastanza giovane, mi parla a 53 anni, sono da 54 anni, nel 1851. Ma in confronto agli altri, eh? In confronto agli altri, in confronto a molti altri dell'epoca, visse abbastanza. E questo è il marito, il suo grande amore. Persi Biscicelli, che è morto giovanissimo, a 33 anni o giù di lì. Sapete com'è morto il portacelli, no? Trent'anni, 1822. Eh sì, nel 1822. Siamo nel, quello che è stato denominato, Golfo dei Poeti. Esatto, siamo in Liguria, è morto annegato su una imbarcazione con cui stava con altri amici. Cioè lui è morto a largo di Viareggio, poi è stato stato appurato. Anche perché poi la salma è stata portata dalle correnti, è stata ritrovata credo una settimana dopo, eccetera. Dieci giorni dopo. E poi è stata sepolta, poi bruciata e poi le ceneri si trovano al museo, al cimitero a Roma, al cimitero inglese, al cimitero acattolico inglese assieme a quella del grande amico, Lord Byron, che anche parteva parte della stessa conventicola, amico naturalmente anche lui di Mary Shelley, anche lui morto giovane in battaglia a Mistolungi in Grecia. E questo invece è un altro di quei personaggi scientifici dell'epoca che stanno intorno alla figura di Mary Shelley, cioè Erasmus Darwin. Guardate le date, questo è il nonno di Charles. Questo è il nonno di Charles, che scrisse l'origine delle specie nel 1859. Questo era il nonno, personaggio a suo modo bizzarro in anticipo ai suoi tempi, con idee anche lui che in qualche modo evoluzionistiche ante litteram, nulla a che fare con Charles, ma persona per certi versi geniali, un po' letterato, un po' scienziato, un po' filosofo, che scriveva anche dei poemi scientifici. E su uno di questi si formò anche Mary Shelley, su spinta anche del padre William Godwin. Altro scienziato che influì molto in questo gruppo di letterati appassionati di scienza fu questo Luigi Galvani e con i suoi esperimenti dell'elettricità applicata alle rane che era in grado di far muovere gli arti a una rana applicandogli gli elettrodi e quindi anche se la rana era morta e quindi si muoveva. Questo già vi forse fa pensare a qualcosa di Frankenstein. E questo era il suo nipote, Giovanni Aldini, che fece ancora di più, perché fece la stessa cosa non sulle rane ma su cadaveri di persone uccise, cioè morte per esecuzione, condannate a morte, eccetera. La questione era se c'erano gli impiccati e i decapitati. E c'erano quindi differenze. Se erano impiccati era meglio, insomma. E allora riusciva a far muovere le braccia, le gambe, addirittura applicando gli eletti del viso a far prendere certe espressioni. Si dice che quando lui faceva queste cose pubblicamente molta gente spaventata usciva dalla sala perché sembrava che il morto riprendesse via. Ma ci sono delle tavole, delle opere di Aldini, no? Sì, non l'ho vista questa. Pubblicate proprio a Londra, siamo all'inizio dell'Ottocento, che sembra di vedere la situazione di Frank. Quindi capite anche come Mary Shelley ha preso ispirazione. E credo, ecco, ce n'è ancora uno, Humphry Terry, che era un chimico, un elettrochimico. Anche lui si occupò del gas esilarante, ma si occupò anche lui dell'uso dell'elettricità in campo biologico. Siamo in quella cornice scientifica del vitalismo, della ricerca, attraverso l'elettricità di quella che poteva essere il primum movens della vita, come si pensava allora. Ecco, questa è un po' la cornice. Tutto però, adesso mi pare che, ecco. Non per nulla, all'inizio di quest'anno, il 12 gennaio, la rivista, il settimanale scientifico americano Science, ha dedicato un intero inserto al mito di Frankenstein e ai suoi rapporti con la scienza dell'epoca e con la scienza di oggi. Un intero inserto, 5-6 articoli piuttosto lunghi, quindi almeno una ventina di pagine della rivista, totalmente dedicata al mito letterario, ma scientifico, di Frankenstein. E, come sapete, Science, Assemble a Nature, sono le due maggiori riviste generaliste settimanali che escono al mondo, Science americano, Nature e inglese. Curiosamente, la cosa l'ha fatta una rivista americana e non Nature inglese. Però, è interessante questo, il fatto che tuttora la cosa venga vista, Nature ha fatto un articolo dedicato al mito di Frankenstein e ai suoi riflessi scientifici. Ma questo per dirvi come, anche la scienza di oggi, stia attenta a queste che sono le radici di certi aspetti dell'immaginario scientifico che si possono trovare nella letteratura e non soltanto. Come avete sentito già il nostro Marco Ciardi, che è docente di storia della scienza, della tecchica all'Università di Bologna, vecchio amico del CICAPA. Ieri abbiamo parlato con lui di 2001, di Sia nello spazio. Ma oggi parleremo di Frankenstein, perché, e in particolare, vorrei che adesso Marco ci raccontasse quando è nato il romanzo e in che ambiente esattamente è nato il romanzo Frankenstein. Era il maggio del 1816, sulle rive del lago di Ginevra, Villa Diodati. Marco. Sì, il 1816 è definito l'anno senza estate, perché nel 1815 in Indonesia c'è una terrificante esplosione di un vulcano, il vulcano Tambora, le cui cenere penetrano così a fondo nell'atmosfera da causare veramente una piccola era glaciale, cioè veramente una situazione dal punto di vista climatologico devastante, soprattutto per l'Europa, che si verifica l'anno successivo. e ci sono frequenti inondazioni, piogge, addirittura nevica in agosto, ed è nevicata anche quest'anno in agosto, ma vi era più abbondante. è una situazione molto impegnativa, che è all'origine di tanti fenomeni, perché appunto, ad esempio, ci sono numerosi episodi di carestie, e quindi è uno di quegli eventi climatici che ha influito molto su anche la storia di tutta una serie di eventi, che non possiamo stare qui a descrivere. a noi interessa che nell'estate del 1816, sul lago di Ginevra, sono riuniti in due ville separate, ma poi soprattutto questo gruppo di giovani si ritrovava nella villa affittata da Byron, che è a Villa Diodati, perché sono lì? Perché Byron è fuggito dall'Inghilterra a casa dei numerosi scandali che ormai lo inseguivano da tempo, anche se era già un noto poeta, è il più anziano del gruppo in quel momento, ha 28 anni. Ci sono Mary col suo compagno persi, ancora i due non sono sposati, sono già fuggiti una volta da casa nel 1814, poi sono rientrati, ma non hanno più avuto buoni rapporti con il padre, in particolare, perché si fa alla svelta essere libertari, però poi quando la figlia scappa con un uomo che è già sposato e c'è già un figlio, e la figlia ha 17 anni, meno, perché la prima volta le cose si fanno diverse, ma questo è un altro capitolo. Perché sono sul lago di Ginevra a casa di Byron? Perché la sorellastra, noi abbiamo parlato della madre di Mary, Mary Wollstonecraft muore dieci giorni dopo il parto, il padre si risposa con una vedova che ha a sua volta due figli e si porta presso la prima figlia di Mary, Mary Wollstonecraft, che ha avuto da un altro uomo, quindi una famiglia molto allargata, la famiglia Godwin. La sorellastra Jane, la sorellastra di Mary, figlia della nuova moglie di Godwin, è una delle tante ragazze dell'epoca che ha una relazione con Lord Byron. Lord Byron ha avuto un'infinità di relazioni, forse non solo con donne, ma insomma, e da qui la fama luciferina di Byron anche. Che succede? Che appunto poco prima di partire, di lasciare l'Inghilterra, Byron pensa bene di avere una relazione con questa giovane ragazza e la ragazza rimane incinta. Quindi aspetta un figlio da Byron. Mary e Percy non volevano andare su Rai di Ginevra, il loro sogno è sempre stato l'Italia, ma ci arriveranno solo dopo, nel 1818. La sorellastra li convince ad andare invece sul lago di Ginevra per cercare di avvicinarsi a Byron. Byron non ne vuole sapere, non ne vuole assolutamente sapere e in seguito accetterà di prendersi a carico l'educazione della figlia purché la madre non si facesse proprio vedere. Poi anche questa povera bambina morirà in Italia a un'età, mi sembra avesse quattro anni, così come i due primi figli, il secondo e il terzo figlio di Mary, perché in realtà Mary ha già perso una piccolissima bambina in maniera prematura mentre sta lavorando al Frankenstein. È una situazione complicata. A questo si aggiunge, a questo gruppo, il medico personale di Byron che è un giovanissimo appena laureato medico, si chiama John Pollidori. In questo contesto così complicato, piove, sono giornate buie e tempestose, questi ragazzi spesso si ritrovano a Villa di Odati, diciamo che sono giovani estremamente appassionati alla scienza ma hanno tutti un animo fondamentalmente romantico. Cioè, vuol dire, Byron, Shelley, sono i poeti della seconda generazione dei poeti romantici inglesi. Adesso poi brevemente, un attimo, vedremo chi è il più importante poeta della prima generazione che per loro rappresenta un modello. si ritrovano e leggono storie di fantasmi. Noi sappiamo anche nel dettaglio cosa stavano leggendo in quel momento ma ora, siccome il tempo scorre, è bene non dilungarsi troppo. Si divertono, eh? Casomai ci lo chiedete dopo. Comunque c'è tutto nel libro, eh? No, 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 ma voglio... Per esempio amano recitare molto le poesie del loro poeta preferito che è Samuel Taylor Coleridge. Un Samuel Taylor Coleridge che Mary conosce fin da piccola perché Coleridge frequenta Casa Godwin e ad esempio ci sono aneddoti che raccontano di Mary che ascolta la ballata, la ricerzione della ballata del vecchio marinaio nascosta dietro il divano insieme alla sorellastra, no? Quindi Coleridge è fondamentale per il romanzo perché ora tutti voi qua sarete esperti o appassionati quindi avete letto il romanzo però a scanso di equivoci io comunque ricordo che Frankenstein è Victor Frankenstein lo scienziato e non è la povera creatura però non si sa mai e soprattutto ricordiamoci come inizia il Frankenstein non inizia in un laboratorio con delle macchine elettriche degli esperimenti tutte cose che nel libro non ci sono non ci sono solo nei film ci diranno loro perché ma inizia con delle lettere scritte da un capitano inglese capitano Walton che sta andando al polo nord per una spedizione scientifica e in quel momento sta scrivendo delle lettere alla sorella che si chiama Margaret Saville Walton M.S.W. voi state, no? ci sono tutti questi referimenti dentro il libro e gli dice sai sto intraprendendo questa spedizione scientifica la letteratura di viaggio è fondamentale per me e gli scegli come fonte del romanzo, in queste lettere dice non ti preoccupare però, non farò come il vecchio marinaio, non ucciderò l'albatro, ci sono proprio dei riferimenti puntuali alla ballata del vecchio marinaio, perché il Frankenstein è anche un romanzo molto complicato, dove si parla di filosofia, di pedagogia, di educazione, insomma è molto complicato. Ed è un romanzo a scatole cinesi, il capitano scrive le lettere a sorella, a un certo punto racconta che ha incontrato sui ghiacci del polo nord una persona che poi si rivela essere Victor Frankenstein, che a sua volta inizia a raccontare la propria storia e si arriverà a capire com'è questa creazione di questa creatura a cui lui dà vita, poi dentro il romanzo ci sarà il momento in cui la creatura racconta tutta la sua storia dal momento in cui Victor la abbandona, povera, dopo averla vista, eccetera, eccetera. Poi c'è un ulteriore altro, quindi una costruzione molto complessa, che deriva, come ha detto Fabio, da una infinità di fonti scientifiche, storiche e letterarie, a cui Mary, ma anche Percy, perché come anche Alfredo Castelli, che ha da poco fatto uscire anche lui un librettino su Frankenstein, che vi consiglio perché il ricco di dettagli particolari ricorda, naturalmente la situazione è molto, adesso ho perso i filo del discorso, che ve lo voglio dire, ho voluto farti un lancio pubblicitario e mi sono perso, che è un bellissimo libro e cose di questo genere. Quindi diciamo che è una struttura molto complessa, in cui, le scatole cinesi, in cui sostanzialmente il romanzo epistolare diventa un momento importante del racconto e questo, diciamo, in tutti i film, poi è stato dimenticato. Ora, quella notte, cioè diciamo la notte, siamo a metà giugno, Byron lancia una sfida, ci sono anche dei film, no? Sono stati fatti sulla notte, i video dati, lancia una sfida e dice, vediamo se anche noi siamo capaci di scrivere una bella storia di fantasmi, una bella storia del terrore, una bella storia che faccia paura. Nell'edizione definitiva in 1831, Mariscelli dà molte indicazioni nella prefazione di come, diciamo, delle discussioni di quella notte e racconta anche, no, delle fonti scientifiche a cui si è ispirata, ecco, e questo voglio dire, come segnali tu nel libro, la prima versione che è del 1818, anonima, è anonima, esce anonima perché, insomma, è una ragazza, scrive un libro, molti pensano che l'abbia scritta proprio Persi, perché in fondo, diciamo, il romanzo, come segnala anche Alfredo giustamente, vede molti interventi del marito nella realizzazione. La realizzazione comincia già sul lago di Ginevra nel 1816 e poi va avanti per quasi tutto il 1817. Quindi è un'alaborazione molto elaborata, noi oggi abbiamo anche i test delle prime versioni, con le correzioni manoscritte di Persiscelli, quindi sono cose un po' da filologi, ma sono importanti. Questo parliamo della prima edizione. La prima edizione del 1818, poi ci sarà un'edizione del 23, ma ve la salto, c'è l'edizione definitiva del 31, in cui c'è una abbondante prefazione di Mary, quella è l'edizione sua definitiva, in cui lei racconta molte delle cose che sono successe a Villa di Odati, tra cui dice che dopo questa notte lei fece un incubo in cui si vede questa creatura davanti, eccetera, eccetera. Ma sono espedienti letterari, lì c'è una infinità di fonti alle spalle di questo romanzo che ne fanno un'opera veramente straordinaria. Però quella notte non nacque solo Frankenstein, nasce anche il primo moderno racconto di vampiri, perché Byron e Shelley non compicciarono molto, la sorellastra non penso neanche avesse intenzione di fare una roba del genere, ma John Polidori butta giù la prima versione di quello che poi diventa il vampiro, il primo romanzo sui vampiri moderni. Io mi fermerei qui adesso un attimo. Abbiamo detto che Shelley muore a negato giovanissimo, che muore in battaglia a Lord Byron e Polidori, tanto per concludere il ciclo, muore a 26 anni, probabilmente per suicidio. No, no. Pare per suicidio, per un momento di depressione, eccetera, legato al fatto che voleva prendere i voti, mi pare, ma ha visto i suoi libri e le cose. No, ma lì, evidente, ci sono molte versioni, però il problema è che quando esce il suo romanzo, appunto anche lì, molti pensano che in realtà sia di Byron, lui va in depressione, poi si mette a giocare. Insomma, sono storie da romantici, ora non possiamo addentrarci molto nella biografia di questi personaggi. Gotici e romantici, però, insomma, va bene. Allora, vediamo un attimo se abbiamo qualche altra immagine. Ecco, questa guarda, Marco, se vuoi un attimo dire tu, visto che è materia tua, questa che cos'è questa immagine? E ci sono due immagini della creatura, che è molto diversa da quella che noi abbiamo visto al cinema. In realtà penso che possa già intervenire Pierluigi qua, perché è proprio il momento di passaggio. Questa è la prima volta in cui nei testi si vede un disegno della creatura. Ma qua siamo nell'edizione del 31, sono già successe molte cose e te le farei dire. Pierluigi Gaspar, a te. Sono già successe tante cose, perché, come diceva Marco, la prima edizione del Frankenstein è 1818, benissimo. Passa inosservata, perché intanto nessuno la voleva pubblicare. Poi viene pubblicata senza il nome, quindi con tutte le illazioni che si sono fatte, circa la vera paternità dell'opera. E quindi per qualche anno questo romanzo aleggia un po' lì nella Londra, letto, purtroppo sommato, da poche persone. Un'edizione abbastanza ridotta. Però nel 1823 succede una cosa. Un regista teatrale decide di portare Frankenstein sullo schermo. Allora non c'erano problemi di diritto, di autore come oggi, anche se insomma con tutte le polemiche annesse degli ultimi tempi. Però quindi chiunque poteva impardonirsi di un'opera già pubblicata e farne quello che voleva. Questo regista decide di fare questa commedia, che poi era un melodramma in realtà, scusate. Un melodramma perché per ragioni del teatro nel quale si doveva essere rappresentato, aveva bisogno che ci fosse musiche e cose del genere, per cui la rappresentazione scelta è stata quella del melodramma. Si chiamava Presumption or the Fate of Frankenstein. E il titolo già dice abbastanza, Presumption e il destino di Frankenstein. Già il titolo comunque contiene qualcosa che nel romanzo non c'è. Perché presuppone che l'atto di Viktor Frankenstein sia un atto appunto di pura e semplice presunzione nel volersi sostituire a Dio nel creare la vita. C'è anche una piccola notazione nelle locandine del teatro, c'è anche una piccola notazione sotto quattro righe, nelle quali si dice, intanto si cita Erasmus Darwin da una parte, nell'altra si dice chiaramente che questa è la sorte, quello che succederà, quello che gli spettatori vedranno nella rappresentazione sarà quello che succede a chi dovesse osare alterare la natura in un certo senso e quindi fa sottintendere che ci sarà una sua punizione, cosa che poi effettivamente nell'opera avviene. Fatto sta che questa rappresentazione ottiene un grandissimo successo e dà il via in un certo senso alla prima fase di costruzione del mito di Frankenstein. Perché per tutto l'Ottocento ci saranno diverse rappresentazioni, anche quasi contemporanee o quasi teatrali a Londra e non soltanto a Londra, che riprenderanno il tema di Frankenstein più o meno raccontato. Chiaramente il racconto che si fa nell'opera teatrale non può essere il Frankenstein letterario per tutta una serie di buone ragioni, nel senso che non si può portare a teatro un testo come quello del Frankenstein letterario, è evidente. Occorre farne una sua trasposizione teatrale che è quello che viene fatta, viene sfrondato di tutta una serie di cose e sostanzialmente c'è questo personaggio che appunto fa il suo laboratorio che sta in alto dietro una porta, noi non vediamo mai il laboratorio, sta dietro questa porta e lui si sente armeggiare, si sa che armeggia, perché altra cosa che nel romanzo non c'è, Frankenstein in questo caso ha un assistente, che sarà il prototipo di tutti gli assistenti che poi diventeranno famosi con l'Aigor dopo, successivo. Frizzi questa volta. Chiamami Aigor. Che è una sorta di paesano, se vogliamo, che fa da contraltare un po' alla vicenda più scientifica di Victor. Poi a un certo punto il mostro, la creatura, che poi cominciano a chiamare mostro direttamente, comparirà su questa scalinata, salterà giù e sarà la prima volta che il pubblico vedrà fisicamente la creatura di Frankenstein, che è chiaramente ben diversa da quella che noi siamo abituati a vedere, perché il Frankenstein che noi conosciamo, che è entrato nell'iconografia ufficiale, lo vediamo dopo, fra un attimo, è quella di Boris Karloff del 31. Però è anche vera un'altra cosa, noi siamo abituati a considerare appunto la maschera di Frankenstein quella di Boris Karloff, in realtà non è così, non è la prima, è quella novecentesca, è quella cinematografica, perché per tutto l'Ottocento la maschera di Frankenstein è un attore ben definito, che si chiamava Thomas Potter Huck, che ha interpretato Frankenstein praticamente in tutte le opere che sono state fatte all'epoca, perché lo chiamavano appositamente. Ed è l'unico senso di continuità fra le varie opere, pensate che lo chiamavano anche in, l'hanno chiamato anche in Francia, a Parigi, pochi anni dopo, fecero un'altra trasposizione, ma ne chiamarono sempre lui, facilitato dal fatto che il Frankenstein del teatrale non faceva lunghi monologhi come quello di, anzi era una creatura che praticamente non parlava mai. Quindi da questo punto di vista l'attore era facilitato, perché poteva tranquillamente impersonare con le sue grida rauche, comunque poteva parlare sia in inglese che in francese. Mentre nel romanzo ci sono dialoghi, anzi c'è un bellissimo dialogo, e noi speravamo anche di poter riuscire a farvi leggere, stante la situazione che si è venuta a creare, speriamo di arrivarci in tempo. E quindi la prima vera maschera di Frankenstein è questa qui, quella di Thomas Potter Huck. Era molto alto tra l'altro, è stato scelto anche perché era un uomo. Sì, aveva una certa prestanza, aveva le caratteristiche che potevano servire, poi aveva un, vediva truccato in qualche maniera. Sì, ma lui come aspetto, visto ci sono delle foto di questo. Sì, sì, certo, aveva il fisico del ruolo in un certo senso. Sì, sì, ma non era brutto, voglio dire. No, 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 assolutamente, no, no. No, la prima rappresentazione è anche quella dei libretti delle opere teatrali, in realtà sembra quasi un dio greco, molto spesso. Un uomo molto alto. Molto alto, corpulento, però ben proporzionato, con un'area semplicemente più grosso del normale, ecco, se vogliamo. Ma niente di spaventoso. Lo spaventoso viene fornito dopo col cinema, anzi in realtà anche prima, cioè o meglio, prima di James Whale, perché... Qui c'è intanto la famosa... Ecco, questa qua è la famosa... Il poster del film di James Whale del 1931. Esatto, che è quello che crea poi il mito cinematografico, anche se non è la prima volta che Frankenstein va al cinema, in realtà. Sì, sì, perché già nel 1905... Dieci. Dieci, scusa, ecco, dieci, ci fu una prima versione cinematografica di una dozzina di minuti che è, peraltro, molto interessante. Si può anche ritrovare in internet, su YouTube, se digitate la trovate. È molto bella perché... In realtà si tolla un po' indietro perché non è scientifica la creazione in questo senso, ma è molto alchimistica. C'è lui che mette in una specie di calderone, in una specie di serbatoio, infila tutta una serie di sostanze, prodotti, insomma, e alla fine si sviluppa veramente una creatura. È molto bello perché in circa tre minuti di film, quindi ne prende un bel quarto, direi, di tutto il film, si vede, si vede la creatura che dal nulla, piano piano, si forma. È tutto in muto, in una maniera estremamente efficace, ancora oggi, da vedere. e lui si vede che si formano le ossa, si forma la testa, si formano la pelle, ed esce fuori questa creatura che poi fa... Un'unica cosa. Sì, una cosa in alto, più o meno. Non è la prima volta che questa cosa si fa. Il Frankenstein teatro era già di nuovo creato in altre opere in maniera più alchemica che non scientifica, però tendenzialmente comunque, è comunque una creatura nata dalla scienza. Poi nel 1931, la Universal, dopo il successo di Dracula, scopre che i film dell'orrore possono essere una buona fonte di reddito. Allora cosa fa? Dice, cosa possiamo fare? E decidono di fare il Frankenstein. affidano la regia a James Whale, fanno interpretare il protagonista Colin Clive, come scienziato. Qui vedete appunto il laboratorio in cui si svolge la nascita, la creazione della creatura. In questo caso il laboratorio è una pura invenzione cinematografica, perché come aveva anticipato Marco, in realtà nel romanzo non se ne parla assolutamente. E in questa notte impestosa di novembre, che succede tutto quanto, ma non ce lo fa vedere, ci fa intuire qualcosa dalle parole che dice, dagli atteggiamenti, dagli suoi stati d'animo, però non ci dice esattamente come. Ci dice in linea di massima quali possono essere state le molle scientifiche che lo hanno spinto, ma non ci racconta niente. Chiaramente il cinema ha bisogno di emozioni, ha bisogno di sensazioni immediate, e quindi è più facile, colpisce molto far vedere questa creatura sdraiata su un lettino che viene innalzata in cima a questa torre, arriva il fulmine, e poi lui che fa it's alive, it's alive, è vivo, è vivo. Eccolo. Altre frasi che non c'era nel romanzo. It's alive, it's alive. Non c'è neanche questa nel romanzo. E nel film c'è un'altra cosa. Se qualcuno di voi ha il DVD di questo film, si accorgerà che a un certo punto, dopo che ha detto è vivo, è vivo, a un certo punto si vede Victor, che non si chiama Victor nel film, ma si chiama Henry, se non è Henry, Henry Frankest, a un certo punto si vede che fa così. E parla, sembra un pesce che apre e chiude la bocca. In realtà, lui sta dicendo una frase in quel momento, ed è una frase che è stata tagliata dalla traduzione, ma non soltanto dalla traduzione, non è stata proprio registrata. perché dice esattamente queste parole ora so cosa vuol dire essere Dio. Che per il 1931 è una frase piuttosto forte. E quindi è stata completamente cassata. Però, se voi guardate attentamente, leggete nelle labbra di Henry, in quel momento lì, la parola God si legge distintamente. E quindi, come dire, aggiunge un valore che in realtà al momento forse gli spettatori non hanno capito, però cambia anche un po' la percezione della creatura. Dopodiché nascerà, da questo nascono altri due film che porteranno nel 1936 e nel 1939, insomma, faranno nascere il mito con la sposa di Frankenstein e la moglie di Frankenstein e il figlio di Frankenstein, nascerà questo mito che poi si ripercuoterà per altri 70 anni, arriverà la parodia di Mel Brooks che rivede ancora una volta in realtà il mito di Frankenstein e ci sarà tutta un'altra serie di cose che adesso non sto a dirvi perché ovviamente il tempo corre e io vorrei passare la parola ad Alfredo. Ecco, intanto, scusami Alfredo, ecco avete visto qui una fase del lunghissimo lavoro per truccare Boris Carlo col suo truccatore straordinario di fiducia. Anche Primo Carnera nel 1957 gli venne chiesto di interpretare Frankenstein in un film assolutamente minore, credo che fosse una serie, eccetera, dopo che lui è stato campione mondiale dei massimi, eccetera, e si era già dedicato al wrestling e qui vediamo Young Franks, cioè il famoso film di Mel Brooks con straordinaria parodia, ma di grande, di grande intelligenza di questo film. E qui invece c'è un altro film, forse due parole, merita anche questo, Frankenstein di Mary Shelley che è in epoca recente per certi versi è molto aderente all'originale, per altri versi so che a voi non piaceva anche se un po' splatter, però... No, ma proprio al volo, è la più grande occasione mancata per fare finalmente un Frankenstein fedele all'originale moderno, che parte, uno parte benissimo, finalmente il viaggio alla nave e finisce lì, perché poi dopo si perde nelle date, nei dettagli, nei particolari, e poi diciamo è una questione di gusti, diciamo, non la recitazione e poi lo posso dire quando Robert Nelio fa Frankenstein, adesso non c'era il Cremona, mi trovo questa situazione, quando recita sempre fa stai parlando con me? Cioè, De Niro e Branagh sono un pochino sopra le righe come di solito. è che la creatura è De Niro e questo è il problema, è De Niro che è travestito da creatura. Ecco, e poi c'è un film appena uscito in questi giorni che devo dire io ho visto Santa in parte in streaming, ecco, che è bello come ambientazione, molto bello, il film non ha avuto un grandissimo successo, però l'ambientazione in cui è nata e si è sviluppata anche Mary Shelley dal punto di vista culturale è realizzata molto bene e questo è proprio, credo che si accorre in alcuni cinema in circolazione. E poi abbiamo i disegni, i fumetti e quindi Alfredo Castelli a te, Sì, io primo cercherò di essere breve perché oramai è tardi, alle sei e un quarto tolgono il servizio in cui c'è un omino che riporta la gente che si è perduta nel giardino la riporta fuori, quindi chi si perde rimane qua deve nutrirsi di bacche che possono essere bella donna o altre cose pericolose e morire. Detto questo, come nasce il libro? Io ho fatto un libro cento pagine di Frankenstein, l'ho fatto quest'anno per un motivo molto semplice, cinquant'anni fa ahimè che era il centocinquantesimo anniversario di Frankenstein avevo iniziato a scrivere questo libretto per un editore che si chiamava Sansoni che non è il Sansoni di Firenze ma Sansoni chiamavano Minore poi l'avevo lasciato lì avevo scritto solo la filmografia fino al 68 roba del genere adesso non ricordo all'epoca e poi avevo preparato un fumetto che poi è uscito però è uscito in formato tascabile e avevo fatto rimontare in maniera che avesse il formato di quel libro del libro è stata fatta la copertina ha scritto una presentazione Forrest J. Ackerman che era allora una persona molto importante perché faceva una rivista che si chiamava Famous Monsters che parlava di questi argomenti fatta la copertina libro e questa cosa allora ho litigato un po' con una persona nella casa editrice ho lasciato perdere dopo cinquant'anni ho detto beh ma forse è il momento di andare avanti evidentemente facciamo un esempio non è colpa mia basta dico solo questo è la maledizione di Franco esatto finisco rapidissimo e poi passo dicevo dopo cinquant'anni ho detto che forse era un po' lungo la loro tirata e ho preparato sto libretto che doveva essere praticamente essendo uscito l'oro che avevo letto apprezzato una specie di folder le cose di cui non parla quel libro lì che magari una robina da poco invece è diventato un centinaio di pagine che ho dovuto fare in tempi velocissimi mi ha tirato folle detto questo questo è spiegare che cos'è questo libro che nasce proprio come apprezzamento per il loro dirò tre cose curiose curiosità perché non c'è tempo che non so se sono sul libro vostro non mi ricordo più oramai però prima tu hai parlato della che cosa leggevano nella villa di Odati ecco allora leggevano con ogni probabilità un libro che si chiama Fantasmagoriana che è stato finalmente tradotto in italiano ed è un libro molto bello perché ha detto parecchi racconti anche interessanti uno di quali è la sposa cadavere da cui ha tratto il film Tim Burton ci sono dei racconti abbastanza belli uno secondo me la coppia che parla di un prestigiatore di un illusionista che faceva questi spettacoli di Fantasmagoria cioè degli spettacoli di magia e di effetti speciali questo prestigiatore che si chiama Calzolaro che evoca un teschio parlante un teschio recuperato dal cimitero e questo teschio si trasforma in suo padre e da lì secondo me prende lo spunto Byron in quel racconto inedito perché era brutto dove c'è un teschio appunto che prende vita seconda cosa curiosa c'è un film intermedio tra quello di Edison di cui ha parlato un attimo fa che è quello dove il mostro nasce dal calderone e quello di anzi ci sono due cose curiosi ci sono due film intermedie e questo qua di Boris Karloff il primo film intermedio è andato perduto e si chiama Life Without Saul vita senza anima cosa ha di curioso sono rimaste solo pochissime fotografie e il su Motion Picture World o qualche rivista del genere è la recensione e comunque l'annuncio si vede la foto del mostro che si capisce sta uccidendo una persona e dice che il mostro è un bellissimo individuo e quanto di meglio può essere stato creato dalla natura ma non è dalla natura e quindi non è per niente un mostro tra parentesi la storia non è una storia reale ma un sogno di un tizio che crede che vorrebbe fare una cosa franche stainiana visto come va a finire la vicenda lascia perdere il mostro della situazione il bell'uomo della situazione non è un mostro finisce sepolto in una non può morire ma poveraccio finisce sepolto in una che è molto cattivo finisce sepolto in una valanga e non potrà più uscire esiste una terza cosa che è collegata a un altro fatto prima ci è parlato delle varie versioni di Frankenstein diciamo la prima del 18 poi una revisionata qualche anno dopo delle commedie quando Meriscelli ha riconosciuto la maternità delle cose quando è tornata dall'Italia in definitiva e poi la terza del 31 che è quella definitiva in realtà nelle traduzioni italiane sono tutte quelle del 18 ma molte traduzioni sono del 18 il romanzo è del 18 1800 quando sarà stato tradotto in Italia nel 1949 tantissimo tempo dopo 44 io ce l'ho anche io ce l'ho quello con la banda in me va bene 44 ma comunque vuol dire lo stesso tantissimo tempo però non è una cosa così strana perché a tradurlo in Europa i francesi l'ho fatto subito i tedeschi l'ho fatto subito poi l'Italia nel 44 la Grecia forse nel 49 e roba del genere e cioè c'è voluto tantissimo tempo prima che venisse tradotto come mai però la cosa curiosa è questa qui che l'Italia è il famoso terzo film il film perduto che si chiama Il mostro di Frankenstein di cui non esiste niente se non delle locandine e un'immagine anzi due immagini una che non c'entra nulla che viene spacciata come immagine del film dovunque ma invece non è quella e un'altra invece è un catalogo del distributore francese che non mi ricordo chi fosse dove si vede questo mostro che era Umberto Guarracino Umberto Guarracino era uno di quegli attori specializzati nei film che ora chiameremmo Sandaloni che allora non si chiamavano evidentemente così erano film storici dove da una parte c'era in questo caso Sansone e dall'altra parte che era Luciano Albertini un acrobata che ha lavorato tantissimo in Germania e dall'altra parte c'erano vari avversari in questo caso il mostro di Frankenstein come mai in Italia dove non si conosceva Frankenstein hanno prodotto un film nel 1910 può darsi che avendo Albertini lavorato tantissimo in Germania il film fosse una produzione italo-tedesca però non si sa è andato completamente perduto quindi non sappiamo se il mostro era dell'epoca di Sansone o seppure era seguiva la storia di Maricelli ultima curiosità perché se no succede quello che ho detto prima perché il mostro di Frankenstein è rappresentato con la faccia verde in generale questa locandina che avete appena visto ha la faccia i film erano in bianco e nero quindi non aveva un colore il mostro le prime locandine lo rappresentano in bianco oppure in giallino che è il colore che dice Maricelli che quando descrive il mostro dice che ha questa pelle che è bello nel suo genere però ha questa pelle giallognola che lascia intravenire le vene l'unico colore che viene indicato è il giallognolo però all'improvviso il mostro è diventato verdesino chissà come mai ma se noi disegniamo il mostro gli facciamo la faccia di quello di Boris Carlo che tra l'altro è coperto da copyright perché ha 6 caratteristiche se ne possono fare 5 non succede niente 6 può esserci una grana dell'universal ancora e il verdesino che la faccia lì perché il verdesino nasce da questo il terzo film doveva essere a colori in quell'epoca erano iniziati i film a colori non erano ancora diffusissimi ma erano già abbastanza popolari hanno girato dei pezzettini a colori dove si vede il mostro con la faccia il mostro se lo vede Boris Carlo con la faccia verdesina io non sono sicurissimo che questi fossero spezzoni del film da fare a colori io credo che fossero delle scene infatti sono scene scherzose dove c'è Boris Carlo che tira fuori la lingua e altre cose credo che sia state girate per provare per così mentre un backstage perché il Boris Carlo indossa una specie di pelliccione quella roba che porta nel film che vediamo che è lilla una specie di color lilla probabilmente era colorato così per dare particolari effetti al bianco e nero che se fosse avuto una roba nera con ogni probabilità veniva fuori una macchia invece con quei colori sta di fatto che è l'unico pezzo a colori alla faccia verdesina un anno dopo o anche meno esce un disegno animato della Universal dove mostra la faccia di Boris Carlo e il colore verdesino ed ecco che cominciano anche a usare questo colore nei manifesti e così via adesso quindi se uno vuol fare un mostro di Frankenstein il verdesino è sul colore detto questo mi sembra senti mentre parlavi io ho fatto scurre un po' di immagini eccetera mi sono fermato un attimo su Martin Mister Frankenstein quindi anche tu sei corresponsabile di questa produzione fumettistica in qualche modo legata al mito di Frankenstein e volevo ancora altre due slide prima di passare la parola a Enrique Bonaccorti negli Stati Uniti è uscito un francobollo dedicato a Frankenstein con la maschera di Boris Karloff era in 1997 e a Ginevra nel centro di Ginevra c'è la più famosa statua dedicata a Frankenstein perché Ginevra perché ho visto che Ginevra è sul lago di Ginevra dove c'è tuttora Villa Diodati che esiste tuttora di proprietà di due famiglie inglesi che hanno acquistato due appartamenti diversi ma Villa Diodati dove nacque tutto il mito di Frankenstein esiste tuttora sul lago di Ginevra la prossima volta che vado a Ginevra al CERN magari spero di fare una puntata perché le altre volte non ci ho pensato ad andarla a vedere intanto è arrivata Enrica Buonaccorti che io ringrazio e saluto abbiamo tempo Enrica per un intervento tuo scegli tu il brano che preferisci lo preferisci leggere da seduta o qui al microfono in piedi mi preme dire una cosa prima io non sono solito arrivare in ritardo agli appuntamenti con le persone e con chi mi ha invitato avete presente una legge famosissima di Murphy avete presente questa è una cosa che anche il CIC ha riconosciuto la legge di Murphy ha riconosciuto anche la CIC è scienza è scienza a dei livelli che sembrava Elsa Popin veramente fino a non trovare più la chiave per rientrare in tutto strade sbagliate persone una cosa meravigliosa mi scuso comunque perché sono io qua in ritardo questo include anche il fatto che avremmo dovuto incontrarci un attimo prima per vedere i brani o l'eventuale le cose improvvisate riescono anche bene però abbiamo tempo per un brano a tua discrezione sì io non ce l'ho quel brano là non lo trovo c'è solo queste poche righe qua va bene poi però mi piaceva anche dire qualche cosa proprio sul questo libro che io trovo fantastico che mi ha aperto un mondo e che trovo sia persino giustissimo incuneato nell'arco delle rappresentazioni del CICAP perché intanto è per opposizione perché questa è proprio un'invenzione pura in più letteraria e qui invece diamo i confini alla realtà col CICAP no? e poi in fondo io confesso che fino a prima di leggere questo libro se mi dicevano a Frankenstein a Frankenstein anzi a Frankenstein io pensavo subito al mostro non so se l'avete già ampliamente magari esplorata questa cosa ma mi sono sentita una cretina totale spesso mi accade ma in questo caso proprio dico guarda che scema se mi pensa Frankenstein il mostro no nessuno pensa a Victor e questa era una cosa che mi sembrava anche questa inerente alla fake news del CICAP che il CICAP cerca di arginare detto questo leggo questo breve brano perché non ricordo l'altra volta in cui ci siamo incontrati era la descrizione del sogno forse dell'incubo era la notte in cui nasce la creatura per cui da dove dimmi le cose improvvisate sono le migliori dopo due chilometri a piedi cercando l'orto botanico va bene da qui ok improvviso cioè non ho preparato la lettura vabbè no per carità di Dio se se lo merito alla fine ma insomma fu una cupanotte di novembre che vide la fine del mio lavoro con un'ansia che arrivava quasi allo spasmo raccolse intorno a me gli strumenti della vita per infondere una scintilla animatrice nella cosa immota che mi giaceva davanti era già l'uno del mattino la pioggia batteva sinistramente sui vetri e la candela era quasi tutta consumata quando al bagliore di luce che andava estiguendosi vidi gli occhi giallo opachi della creatura aprirsi respirò ansando e un moto convulsivo le agitò le membra come posso descrivere le mie emozioni in quel momento culminante e rappresentare la disgraziata creatura a cui con cura infinita infinite pene avevo cercato di dare forma le sue membra erano sproporzionate e avevo scelto le sue sambianze mirando alla bellezza bellezza grandio la sua pelle gialla ma alla pena copriva la trama dei muscoli delle arterie i suoi capelli erano fluenti di un nero lucente i denti di un bianco perlaceo ma questi pregi facevano solo un più orrido contrasto con gli occhi acquosi che sembravano quasi nello stesso colore delle orbite biancastre in cui erano infossati con la sua pelle corrugata e le labbra nere e tirate questo è il testo e subito dopo si racconta che appunto Frankenstein è sconvolto fugge dal laboratorio e alla fine è spossato si addormenta ma nel sonno agitato anche lui ha un tremendo incubo e noi sappiamo dal libro di Gaspeciardi che è proprio anche dall'incubo che ha Mary Shelley che nasce questa storia dopo la provocazione di cui sicuramente avrete parlato a Villa Diodati di Byron che vi confesso visto che siamo in pochi è stato il mio terzo finanziatino virtuale il primo era Peter Pan il secondo è stato Piccolo Principe il terzo è stato Byron io a 14 anni mi sono persa per Byron e questo Byron appunto già avevo cominciato ad innamorarmi di tutti quelli disgraziati era terribile e chiaramente era il più grande di questi due gruppi aveva già 28 anni questa ragazzina di 19 anni peraltro già moglie di Shelly grande amico e così alla provocazione in quella notte buia e tempestosa che viene riportata qui perché ci sono questo specchiarsi della realtà della nascita di questa storia e di quei momenti riportati dentro la storia proprio nella nascita della creatura quasi fosse la creatura similare alla creatura che è nata da Mary come nell'accadimento di quella notte ci sono delle cose meravigliose che il loro libro vi fa pensare e ripeto mi sono sentita così superficiale così povera pensando a come prima avevo accolto tutto il mito di Frankenstein anche un po' svilendolo forse dentro di me perché una cosa è Faust una cosa è Frankenstein no? Prometo e tutto anche se c'è scritto anche se c'è scritto Prometo sotto mi sembrava uno scalino leggermente sotto forse lo sarà anche ma non c'è più graduatoria quando si arriva a queste vette perché non è un caso il Faust da cui viene ripreso il tutto ma anche lo stesso Goethe aveva ripreso ancora da prima insomma le cose buone quando arrivano elementi buone sane giuste sanno come farle vivere e germogliare ci sono altre sole tre righe che mi sono molto piaciute che dice dice Victor Frankenstein e dice a un certo punto imparate da me se non dalle mie raccomandazioni almeno dal mio esempio quanto pericoloso sia l'acquistare conoscenza e quanto più felice sia colui che crede che la sua terra natale sia il mondo di colui che aspira a diventare più grande di quel che la natura consenta c'è sempre questa questa sofferenza nella ricerca della conoscenza che va punita da Adamo e Deve in poi ci hanno massacrato appena uno voleva avere un po' la conoscenza che si chiamasse fuoco che si chiamasse mela venivi massacrato e in questo c'è anche e questo c'è anche in Frankenstein in quella meravigliosa invenzione di lui che da una ferritoia di una baracca impara la storia impara a leggere e scrivere e poi c'è quella meravigliosa parabola quasi direi dell'incontro di Frankenstein perché è molto diverso il libro del film l'avete detto ampiamente e appunto è questo che mi ha tanto sorpreso e fatto sentire povera fino a prima di leggere questo libro e quando Frankenstein incontra in questa baracca che è abitata da quattro persone tre poi diventano quattro insomma comunque il più vecchio di questo gruppetto di persone che è cieco non lo vede per cui non può avere timore della sua immagine e sente soltanto la sua voce devo dire che nella contemporaneità in cui siamo mi ha fatto anche pensare a The Voice quel programma televisivo in cui si deve scegliere sulla voce e le cose ritornano io penso sempre che qualsiasi concorso dovrebbe essere senza la firma bisognerebbe sempre giudicare senza sapere da chi viene in fondo il nostro giudizio è talmente attraversato e condizionato dall'immagine che il fatto che Frankenstein sia accettato anzi accolto e giudicato sincero da un vecchio che è cieco ma quando tornano gli altri elementi della famiglia lo vedono impaginata cosa succede ecco questa è una cosa anche tanto importante di questo libro ce ne sono tante di cose importanti e io spero che abbia grande divulgazione d'altra parte loro sono due grandi divulgatori hanno scritto una cosa molto interessante e intelligente ancorché conoscendolo sto scherzando con Pierluigi ma veramente sono felice che mi abbiano coinvolto mi dispiace di non averli ascoltati prima grazie mi permette di dire una cosa rapidissima veramente rapida sul concetto prima ha parlato giustamente del CICAP e della io non rappresento il CICAP sono un ospite però ho cercato di capire bene qual è il legame tra queste due cose ho fatto tra le varie cose a cui parlano di Frankenstein ho parlato appunto ho annunciato questo incontro intitolando in un fumetto intitolando i Frankenstein ignoranti perché i Frankenstein ignoranti che cosa vuol dire il romanzo di Frankenstein è un romanzo evidentemente di fiction si inventa qualcosa però è un romanzo che dà grande peso alla scienza cioè dà grande peso allo studio quindi il professor Frankenstein è uno che ha studiato crede in quello che fa farà una cosa sbagliata una cosa una cosa che nella realtà ancora non esiste però ha dietro alle spalle un background preciso serio importante in questo momento c'è il rischio dei Frankenstein ignoranti cioè il rischio di persone che dicono delle cose senza aver studiato ma la pensa che cosa stranissima ma me ne ho accorto infatti per quello volevo dirlo perché magari non si sono accorti neanche loro ma che ci sono in giro della gente che si definisce Novax perché al bar a me viene il mal di fegato e lo curo con delle medicine che prendo dallo spazio come fanno il Novax ecco questa cosa attenzione ai Frankenstein ignoranti il Frankenstein nostro sarà magari professore il padre di un mostro ma quantomeno ha studiato e ha cercato di fare il meglio di quello che poteva fare per esempio se posso aggiungere una cosa c'è anche questo nel libro che si evidenzia come in quel momento storico dei primi dell'ottocento si veniva fuori da una frangia di settecento in cui Paracelso e l'alchimia avevano preso grandi piedi avevano suscitato grandi interessi però è arrivato l'illuminismo è arrivata la scienza e quando anche lo stesso chi è che lo dice a un certo punto che dice ho capito che avevo sbagliato tutto lui stesso quando incontra il professor Walton quando incontra lui si è esatto dice ma io ho capito che avevo sbagliato tutto avevo dato la mia fiducia a qualcosa di quasi di stupido insomma da mago ho capito perché adesso non si capisce perché anche lì stavano imbevuti di alchimia la pietra filosofale poi gli si spiegano le cose e voglio dire chi è che ha detto la scienza non è democratica l'ha detto giusto l'ha detto giusta questa roba qui perché non è che si possa contestare io domani mattina farò un intervento in cui dico la correttezza delle informazioni scientifiche non può essere lasciata gestita con superficialità nei grandi media io soffro perché l'unica fettina di roba scientifica che so che ho approfondito e che so che è tutto giusto quello che dico che ho scritto me l'ha certificato il ministero della salute mettendolo nel mio testo in quelli che hanno più correttamente divulgato per cui io non so nientato se mi dice c'è la febbre dico mi dispiace però quella roba lì la so perché non si deve divulgare una cosa semplice che se ho capito io possono capire tutti perché si continua a lasciare sto parlando addirittura di una cosa molto forte che è il fine vita perché si devono lasciare le informazioni orecchiate e addirittura non seguire l'aggiornamento per cui chi non sa accetta tutto perché se ti vedi uno in camice bianco che gli dice una cosa e sarà quella cosa la dice la buona corte la cosa giusta che ha fatto anche non è la RAI ma che siamo amati e invece sì per cui ci vorrebbe un filtro e un'attenzione perché se ti danno un'informazione sbagliata scientifica sulle stelle insomma sì sarà anche grave ma ci riguarda poco se ce ne danno su cose che attraversano la nostra vita come la salute e le sindrome cliniche e altre cose beh quella è ben più grave perché io sono portata a crederci e io stessa quando per un lavoro ho approfondito quella fettina lì dico ma cosa stanno dicendo a confronto avrò capito male io vai a confronto con neurologi e dici ma perché non lo spiegate voi e figurati tanto il pubblico tanto quelli non vogliono tanto ma non è io sono forse troppo severa ma avere scoperto che scusami faccio una digressioncina mi è venuta non so perché da quello che ha detto lui scusami e avere essere riuscita a capire la realtà dei fatti e non l'opinione o la cosa così per esempio su quanto noi possiamo rimanere in coma no ecco perché io fino a prima un po' di anni fa pensavo forse come la maggior parte di voi beh anche anni tutta la vita così pensate mesi eh e no al massimo sono 3-4 settimane poi c'è tutta una spiegazione ma adesso non è il caso però è semplice è un dato incontrovertibile scientifico che va corredato da una leggera spiegazione che non è difficile è semplice allora perché io devo ascoltare che si parla di cose dice il sottotitolo del TG2 Sharon morto dopo 8 anni di coma e non è possibile oggi ce n'è uno di 30 bisogna vedere la civetta di non so quale giornale di qui c'è morto dopo 30 anni di coma quindi va tutto un record ecco io sulla correttezza dell'informazione sono severa perché questa è l'unica cosa scientifica poi ne ho trovata un altro paio in altri ambiti e dico ma io perché devo stare lì ad ascoltare queste cose senza avere qualcuno che mi protegge perché poi se su queste cose ti fanno fare o un referendum o una legge o una cosa e tu segui l'onda poi siamo tutti opinionisti come dicevi tu giustamente senza avere le informazioni che è come costruire una casa senza le fondamenta a un certo punto crolla prima hai le informazioni e poi puoi dare l'opinione perché l'opinionista così vuol dire che hai orecchiato che non esiste però secondo me un tentativo di dare l'informazione c'è solo che in questo momento non si è trovato il canale per farlo perché bene o male onestamente vi ho detto che i giornali che i no vax o che li chiamano i giornaloni ma i giornali e così via danno delle informazioni mediamente corrette anche la televisione eccetera quello mediamente adesso non dico che siano perfette però non dicono le sciocchezze che si sentono nei social network in questo momento però stanno vincendo i social network non ci sono santi quindi se uno ieri sera parlavo con una signora dal nome tedesco impronunciabile che proprio assolutamente non ci tento nemmeno è lungo così circa in corpo volto bene lei diate in un blog credo abbastanza serio non ho ancora guardato proprio sul discorso delle vaccinazioni serio medica eccetera eccetera dice di farlo riceve un sacco di insulti e basta perché questi media oramai sono gestiti secondo il sistema demenziale dell'uno uguale a uno che non so chi l'ha inventato ma dovrebbe essere fucilato sulla pubblica piazza come divulgatore di una cosa terribile erano tanto allegri parlando di questo mostro adesso questi discorsi ci hanno intrestito moltissimo giusto abbiamo fatto male ci siamo fatti sfuggire scusate stavo intervenendo anche io abbiamo già sforato abbondantemente e poi si corre il rischio che Alfredo prima ci stava dicendo delle persone disperse del bosco che vanno a finire a mangiare le bacche di bella donna non vogliamo avere queste responsabilità e quindi io vi ringrazio per l'attenzione ringrazio naturalmente i nostri relatori mi pare che abbiamo messo parecchia carne al fuoco e anche stimolata la vostra curiosità per il Frankenstein di Mary Shelley e per il libro dedicato a Frankenstein di Gaspa e Ciardi nonché per quello dedicato al cinema di Castelli grazie a tutti credo che forse qualcuno vuol farsi autografare le copie ma sono qui gli autori a disposizione grazie grazie a tutti Grazie.